e guardiamo ai ragazzi e alle ragazze di prestare la massima attenzione a non toccare le piastre nel momento in cui sta partendo la gara successiva a rimanere in acqua eh restando lontani dalle piastre e se possibile spostandosi lateralmente sulla corsia per lasciare spazio alla partenza della gara successiva naturalmente a tutti ricordiamo anche di rispettare il massimo silenzio al momento della partenza le finaliste cento rana junior femmine leonora casarotto miglior tempo in uno tredici e zero uno con lei in finale ci saranno Isabella Cervi Emma Fanfoni Eva Cimenti Aurora Leghissa Chiara Savian Katia Cagnato e Veronica Bellato uno diciotto quarantacinque per l'ottavo posto in finale in archivio la prima batteria delle due junior maschi con Filippo Florian che si impone per pochissimo uno zero sette e trenta la prima batteria delle due cuore dell'ottavo pasto in finale